segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te amo roma queste immagini sono entrate nell'iconografia della capitale la dolce vita il 1960 anita egberg fa il bagno nella fontana di trevi ebbene quella fu un'immagine nel sogno cinematografico di fellini che non umiliava valorizzava la bellezza di un'opera unica c'è anche gente meno bella che fa il bagno adesso nella fontana di trevi mi prendi il mestiere infatti in questo caso la funzione infatti guarda che cosa è successo proprio l'altra sera a roma allora l'inizio